Inquinamento ambientale e rifiuti tossici nel Venafrano e in Molise. Francesco Schiavone, alias Sandokan, ex capo del clan dei Casalesi, sta facendo luce sugli affari della Camorra, collaborando con il capo della direzione distrettuale antimafia di Napoli, Nicola Gratteri. Le sue rivelazioni riguardano omicidi e intrighi finanziari, che hanno caratterizzato il regno della criminalità organizzata nel sud Italia. Ma c'è di più e riguarda proprio noi. Infatti, i suoi racconti svelano un filone oscuro legato alla gestione dei rifiuti tossici, una rete di interessi che si estende fino al territorio molisano. Carmine Schiavone, cugino di Sandokan e anche egli collaboratore di giustizia, aveva già tracciato il percorso dei camion carichi di veleno che, partendo dalla Campania, venivano smistati in tutta Italia. E proprio in Molise si è rivelato una tappa cruciale in questi viaggi. Infatti, Sepino, Cerce Maggiore, Guardiareggia, le cave abbandonate del Venafrano sono tutti diventati luoghi dove i rifiuti tossici trovavano la loro sistemazione. Le indagini sono in corso e il pericolo di un disastro ambientale, stando alle rivelazioni dei cugini Schiavone, è sempre incombente. Con queste rivelazioni, però, la direzione antimafia di Napoli potrebbe finalmente fare luce sulla reale entità dell'inquinamento ambientale, provocato dai rifiuti tossici gestiti e distribuiti in passato dalla Camorra in tutta Italia.